bella ragazzi allora son tornato eravamo rimasti che stavamo costruendo il nostro serbatoio per l'acqua pulita ma volendo possiamo già dargli il il comando di buttare dentro l'acqua che trovano quindi adesso quando andiamo a pulire qui loro ce la buttano qua attenzione perché qua poi ci sarà anche se non si sta attenti ci butteranno dentro anche l'acqua sporca e bisogna deseluzionarla da qua diamo una priorità molto alta così almeno l'acqua la tirano su subito qui raccogliamo qui non si può perché c'è troppo liquido quindi non si può fare però adesso piano piano scaviamo allarghiamo e bene o male ci l'acqua si spande quando sarà a un livello molto basso riusciremo a raccoglierla però va bene non è un problema per ora la barretta gialla indica che la ricerà che punto è la ricerca e siamo abbiamo quasi finito con quella quella di prima ottimo a livello di ossigeno siamo messi ancora abbastanza bene ci sono delle piccole sacche di anidride carbonica che loro producono respirando perché abbiamo dell'ossidite ancora in giro quindi anche se ormai l'abbiamo finita tutta quindi a breve qua dobbiamo incominciare impostare l'ossigenazione della base per forza boh ricerca completata wow wow allora andiamo a vedere che cosa andare a ricercare ora io direi di aspetta un attimo direi di andare a ricercare subito impieghi distributore dell'acqua tanto ce l'abbiamo pulita così sono più contenti e ricerca avanzata vuol dire che sbloccheremo super computer il super computer ci permette di ottenere questi punti scienza questi qua un po più scuri questi viola diciamo quindi selezioniamo questa consuma un bel po di corrente un bel po di acqua e un bel po di terra però vabbè tanto comunque ce n'è di terra in giro quindi non è un problema allora qui hanno completato quindi a questo punto io direi di andare a completare la scalina qua per forza fino a qua sotto e completiamo anche questa fino a qua sotto qua bisogna scavare non ce la fa mettere perché c'è un fiore setoso quindi è abbastanza andare quando mi verranno a scavare qua salterà via poi ci aggiungiamo la cosa scaviamo qui e poi cominceremo a scavare veramente tutto 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 scaviamo anche in parte in parte qua io non qua non toccherei anche se non è pericoloso cioè arenaria finché non si scava sotto la sabbia non è un problema quindi io scaverei anche qua e qua in modo da fare due bei tunnel belli grossi che fanno cadere giù la anidride carbonica vedi adesso qua possiamo mettere la scaletta perfetto quando mi finiranno di scavare incomincieremo impostare la raccolta della anidride carbonica e delle mettere gli ossigenatori e quant'altro dobbiamo decidere dove mettere le camere da letto e le prime culture per essere autosufficienti a livello di cibo si potrebbe ciao e ma buon buongiorno che potrebbe incominciare a pensare magari di mettere le camere da letto voglio mantenere come dicevo nel primo episodio comunque per chi lo sta guardando sta guardando la serie su youtube mantenere una base molto molto compatta molto piccola con poche poche persone e impostare praticamente per andare a scavare da tutte le parti in tutte le direzioni dei tunnel molto molto fini piccolini in modo da svelare il più possibile della mappa per poter trovare dove dove ci sono le risorse infinite i geyser e robe varie quindi potremmo fare magari le culture da questa parte incomincieremo a pompare l'acqua qui le culture da questa parte le camere da letto magari qui non vado ad aprire per ora e camere da letto le butto magari qua dentro per adesso sotto sotto i cosi sì 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 esatto allora ragazzi per chi sta guardando il video su youtube vi ricordo di venire a trovarmi in live qui così su questo canale ok che potete seguire live magari se c'è qualche esperto più esperto di me ci possiamo scambiare qualche consiglio non sarebbe male anche perché questo è un gioco molto difficile io ancora non sono riuscito a portarlo a termine quindi non sarebbe male ok allora abbiamo un'altra ricerca da fare questa vediamo un po che cosa andare a cercare adesso il super computer l'abbiamo sbloccato quindi si può portare avanti tranquillamente tutto quello che vogliamo visto che vogliamo andare a sbloccare subito i serbatoi io direi di farlo al volo in modo da togliercelo dalle balle poi vedremo per i generatori a carbone e quant'altro anche perché di carbone comunque vedo che non ce n'è tantissimo in giro in realtà cioè non abbiamo grossi giacimenti di carbone c'è un bel po qua però prima di riuscire a scavare qui dobbiamo sviluppare la capacità per poter scavare il granito qui siamo già al limite con la melma maledetti abbiamo già del cloro qua ottimo ci sono delle alghe qui carbone ce n'è veramente pochissimo quindi non ci possiamo basare sulla produzione di energia a carbone allora intanto che finiscano di finiscono di scavare qua io direi di andare a progettare il recupero dell'acqua qua dentro quindi facciamo così intanto vabbè togliamo il punto esclamativo tubature pompa per i liquidi magari la piazziamo qua più bassa possibile condotto per i liquidi allora la scaletta anzi facciamo così rimuovi andiamo a scavare con priorità 2 andiamo a scavare qua e la pompa la piazziamo un po più in parte qui in modo da poter mettere la scala qua perfetto poi andiamo a scavare qua c'è saliamo su con la scala fino a qui un po di acqua ci cadrà ma non fa niente e potranno andare a montare la roba qui se noi apriamo qui va da sé che l'acqua defluisce giù quindi bisogna stare attenti finisco questo ok l'impianto è fatto praticamente la corrente prendiamo la corrente da qui i tubi facciamo lo sfiato qua dentro la pompa l'abbiamo messa qui non abbiamo ancora gli interruttori quindi questa pompa continuerà a girare però vabbè ma almeno incominciamo a spostare parte di quest'acqua qua dentro e poi possiamo incominciare a utilizzarla a raccoglierla da qua allora è arrivato il momento di modificare questa cosa le batterie la stazione di ricerca e quant'altro spostiamo tutto qua sotto per ora poi al massimo altri compattatori li mettiamo qua sopra quindi facciamo questo lavoro aspetta che abbiamo prima delle nuove abilità abilità duplicanti nicola tesla ha sviluppato un un punto perché siamo arrivati a 3000 circa questi poi invece manca ancora pochino 300 punti quindi lo facciamo diventare il nostro assistente da laboratorio e gli diamo il suo cappello perfetto ok va che bravi hanno già iniziato a scavarci a costruire tutto quello che dobbiamo costruire bisogna solo piazzare l'energia abbiamo 1450 kg di rame non è un problema prendiamoci corrente da qua la così quando avremo gli interruttori poi metteremo anche quelli ricordiamoci sempre che loro riescono a scavare al massimo due caselle sopra la testa quindi una due tre quattro la quinta casella non riescono a scavarla cioè non vanno più più in là di quello allora dovremmo andare a guardare un attimino gli orari e le priorità allora gli orari noi abbiamo bartolino che è mattiniero quindi potremmo incominciare a creare già anche i nuovi orari metterci dentro bartolino qua e gli spostiamo praticamente gli orari di pausa intanto una pausa in la facciamo fare a sta gentaglia un'oretta in più così stanno un po alti di morale poi a bartolino che mattiniero qua c'è la mattina e qua c'è la notte lo facciamo lavorare al posto dell'igiene e l'igiene la mettiamo alla fine della mattinata per quanto riguarda invece la pausa e quant'altro lo lasciamo uguale a prima semplicemente li abbiamo spostato quando lui deve andare in bagno anche perché ci sono solamente tre tre cessetti e noi siamo già in quattro quindi almeno non se li non se li litigano e siamo a posto così qui stanno dormendo veramente male perché c'è sto insetto luminoso che andiamo ad ammazzare subito domani mattina appena si svegliano me lo ammazzano la prima cosa che fanno me lo ammazzano nel frattempo che dormono possiamo andare a vedere anche le priorità allora direi di abbassare la priorità a zero a tutti i nuovi duplicanti quelli che entreranno poi che l'abbiamo già fatto così l'abbiamo già fatto poi gli diamo marcegaglio che il nostro costruttore gli diciamo che priorità massima deve costruire poi può fare anche tutto il resto perché tanto siamo solo in quattro per ora caterpillar può attaccare e scavare nicola tesla invece che il nostro scienziato gli diciamo che di priorità deve fare ricerca e bartolino invece deve pulire consegnare i materiali dove servono e fare stoccaggio fare stoccaggio significa che portano raccolgono le robe da terra per metterle nei compattatori abbiamo delle nuove abilità dei duplicanti caterpillar gli diciamo che diventa il nostro scavatore in esperto con il cappellino e gli altri invece manca veramente pochino quindi aspettiamo ancora un attimo boh hanno finito finalmente hanno finito i cosi qua la stazione di ricerca robe varie aspettiamo che finiscano di scavare anche qui mi finiranno questo finiamo di scavare qua magari scaviamo un cubetto in più però lo facciamo dopo e qua stanno per finire la pompa perfetto allora abbiamo intanto che ci costruiscono qua abbiamo un'altra abilità possiamo andare a dire a marcegaglio che diventerà il nostro muratore di fiducia ottimo muratore adesso tutti hanno il loro cappellino in realtà non ho mai capito a che cosa serve dagli il cappellino forse è solo una una maniera però va come contento è mica troppo se dai è contento contento forse è solo una questione di riconoscimento per chi sta giocando credo ma non credo che ai fini del gioco del gameplay possa cambiare qualcosa se qualcuno lo sa me lo dica allora visto che ci hanno costruito qua la stazione questa cosa possiamo demolire e ammazziamo pure questo perché sennò stanotte ci rompe le balle boh qua abbiamo finito adesso vediamo come proseguire allora in live qualcuno mi ha consigliato piuttosto che usare la pompa qua per spostare l'acqua da sopra sotto noi apriamo una breccia ho messo una porta stagna abbiamo apriamo una breccia qui e facciamo defluire per caduta tutta l'acqua qua sotto però questa qua non ci sta qui quindi adesso andremo ad allargare verso il basso la nostra il coso qual la vasca e facciamo cadere tutto bene ok nel frattempo che allargano qui andiamo a vedere perché è arrivato qualcosa altro di nuovo perché sono passati sei giorni exotute uso di macchinari decorazione no decorazione agricoltura cucina no cucina allevamento sono troppi troppi interessi e non mi va bene io scelgo sempre quello da uno da massimo due interessi a questo punto secondo me ci potremmo prendere un dentuccio e questo qua ci caga fuori carbone ce lo butta cammina in giro mangia terra e caga carbone quindi secondo me ci potremmo prendere questo bisognerebbe vedere se riesce a saltellare oltre al massimo gli mettiamo un una piastrella per farlo saltare oltre vediamo buon ragazzi è arrivata notte siamo al sesto giorno quindi aspettiamo che domani mi finiranno questo serbatoio e ci vediamo alla prossima al pro alla prossima puntata per chi è in live ti goda lo stacchetto del il logo il logo del canale grazie a tutti